Conti, iperimpegnata perché svolge un lavoro che molti non avrebbero il coraggio di svolgere, quindi chi è Francesca Conti? Allora intanto grazie, ma il coraggio di svolgere l'abbiamo in ogni professione. Io sono responsabile di un poliambulatorio, peraltro connotazione carina, siamo tutte donne se non il nostro staff al maschile, che sono i medici. È nato come una costola di una società di sicurezza sul lavoro, dopodiché la mia passione mi ha avvicinato a quello che è il concetto di cura e quindi della persona al centro. Quindi Forti mi è diventata poliambulatorio con direttore sanitario e otto medici del lavoro e poi poliambulatorio si è aperto alla specialistica privata, autorizzando quindi il poliambulatorio e in forza dell'autorizzazione abbiamo innestato un centro di prelievi accreditato Regione Lombardia interno. Sono partita anche io da dipendente e oggi sono amministratore unico. Questo è l'unico coraggio vero che c'è stato nel cambiare, cioè di mettermi come imprenditore e non come solamente socio insomma. È comunque una cosa molto bella quando tu dici che ti occupi della cura perché, la seconda domanda allora te l'anticipo così, nella mia testa il progettista di quartiere come nuova professione potrebbe essere molto importante da questo punto di vista perché va a curare degli aspetti che magari ci sfuggono. Cosa ne pensi tu di questo progetto? Allora intanto grazie che mi hai coinvolto nel parere, senz'altro il concetto della cura richiede una sinergia di azioni, avere una figura in più che possa aiutare senza particolari burocrazie, ma collocandosi proprio anche a supporto già di quello che è il sistema di operatività sul territorio, lo ritengo una grandissima forma di cura, lo ritengo anche una forma bella perché aiuta la stessa persona che aiuta e noi sappiamo bene che aiutati che il CELTA aiuta non è solo un proverbio ma è vero perché dà tantissimo alla persona a livello di dignità poter esplicare un qualcosa che vada ad accrescere le altre persone e in questo la figura progettista di quartiere mi ha colpito, mi ha aperto un po' questa visione futura. E quindi a tuo modo di vedere è una professionalità che ha senso sviluppare in una logica di necessità, non soltanto necessità contingente, ma proprio necessità di ripristinare magari anche una fiducia sociale che in questo momento sembra quasi mancare. Sì, mi piace qualcosa che non sia sempre solo per produrre qualcosa, cioè ci sono delle azioni che danno già, cioè dignitano comunque già delle azioni come quella di essere d'aiuto. Cioè mi viene in mente una persona che ad esempio non ha lavoro o in un momento di calo di lavoro può sentirsi utile e quindi ha un doppio svolgimento il tema progettista di quartiere. Cioè faccio qualcosa di buono perché è oggettivo e magari aiuto a mappare il territorio con determinate azioni coordinate, allo stesso tempo fa qualcosa di buono per quelle persone che magari hanno più tempo e hanno bisogno anche di psicologicamente sostenersi in una dignità del loro lavoro. Quindi impiegare le persone in qualcosa di nuovo lo ritengo già di per sé un grande passo e non è detto che tutto debba andare per forza nel produrre. No, assolutamente no, ma mi hai praticamente già anticipato un po' la domanda che ti avrei fatto in conclusione perché è uscita una parola bellissima che fino ad oggi non era ancora uscita che è dignità. Quindi il vero valore del progettista di quartiere sarà anche legato alla capacità di ridare dignità a chi lavora, ossia a chi avrà la possibilità di chiedere effettivamente un aiuto e poter instaurare un ciclo magari microeconomico che gli permetta di ricevere la cura desiderata. Sì, direi che in un'ottica globale hai espresso un bel riassunto che condivido. Perfetto. Ci vuoi dare una tua ultima riflessione su questo, Francesca? Oddio, abbiamo parlato quando mi hai esposto un po' il progetto di tante cose molto interessanti. A me è piaciuto tanto il discorso di questa microeconomia che si va a creare. Cioè il progettista di quartiere non è un qualcosa di scoordinato, è un qualcosa di... è vero che non richiede particolari specificità, quindi apre le porte a più, a un ventaglio di persone, ok? Però allo stesso tempo la parola progettista mi ha incuriosito perché ha detto come funziona, no? Quindi questa microeconomia che si va a sviluppare, ritengo che sia un'ottima azione in un momento come questo, sia un ottimo messaggio nei confronti delle persone e quindi sia un'ottima iniziativa proseguire perché venga sostenuta anche da occhi professionisti e anche da occhi sociali per quello che sono poi le dinamiche di sviluppo di questa professione nuova. E poi abbiamo bisogno di professioni nuove. Perfetto. Brava, brava. Di questo sono d'accordo. E non solo web, direi. Grazie. Allora io ringrazio tantissimo la dottoressa. Grazie a te. FortiMed e vedremo i lavori dei ragazzi che cosa produrranno alla fine del corso. Una buona giornata e arrivederci. Grazie, grazie.